A Bustarsizia, Palazzo Ciconia, il 14 di aprile faremo cittadini in posa con i fondali del Paracchi e quindi ognuno potrà venire a farsi fotografare con la propria famiglia o da solo o in compagnia di amici e riceverà una fotografia in omaggio e entreranno nella storia perché poi queste foto entreranno nell'archivio fotografico della città. Così, nell'epoca dei selfie, il curatore artistico Claudio Argentiero invita i bustocchi a mettersi in posa come un tempo nell'ambito del Festival Fotografico Europeo 2019 che, iniziato a marzo, proseguirà fino alla fine del mese lungo l'asse del Sempione. Siamo soddisfatti della partecipazione e anche del coinvolgimento di tante realtà del territorio. Adesso, nella parte conclusiva, ci attendiamo un'ulteriore partecipazione anche in molti eventi che sono in programma. Insomma, tante attività che ci porteranno il 28 aprile con un finale che dovrebbe in qualche modo concludere un percorso, una proposta culturale che ha offerto alla città e al territorio un'occasione di incontro.